ritornato a vivere a bari all'età di vent'anni e insieme a me è nata questa amicizia in cui abbiamo praticamente abbiamo cominciato a delinquere insieme da quando avevamo vent'anni fino ai 50 di una brescia ciao dito come stai bene 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 molto bene molto bene bello rivederti allora raccontami un po di cosa si tratta c'è vamos in vamos sei mimuccio no ma il muccio è un è un delinquente old style ormai che però è stato una sorta di manovalanza della malavita però quella proprio sai l'ultima ruota del caco la stipendiata che ancora sta lì che vende i pensi qualcuno ha detto un po l'evoluzione di minuicchio però in realtà no perché dal minuicchio dalla capa gira immaginavo che si sarebbe voluto come delinquente avendo fatto anche un salto di qualità che sarebbe un boss questo invece è la versione quella proprio più disgraziata manovali della delinquenza che stipendiati che però in questo spettacolo raccontano che cercano di fare il salto però non ci riescono in pieno diciamo fanno cazzate anche in questo destinati dei perdenti comunque dei perdenti ecco questo andrà in scena al teatro kismet dal 14 al 16 14 15 e 16 tre giorni venerdì sabato e domenica pomeriggiana non sei da solo sul parco giusto sono con gianluca gobbi che questo attore di milano che però c'è un percorso della basilicata quindi diciamo che lui è emigrato a milano che i genitori poi è tornato a vivere è tornato ha ritornato a vivere a bari all'età di vent'anni e insieme a me è nata questa amicizia in cui abbiamo praticamente abbiamo cominciato a delinquere insieme da quando avevamo vent'anni fino ai 50 e adesso vogliamo cambiare le cose quindi questo misto milanese pugliese video lo so che lo puoi spoilerare ma insomma io so che a un certo punto mi muccio non ce la fa più vuole lasciare tutto io sono proprio curioso e questo diciamo ce la farà non ce la farà non si può dire non si può dire fanno fatica fanno fatica sono dei veri dei veri perdenti dei simpatici perdenti va bene va bene allora a questo punto niente per scoprire cosa accadrà a mi muccio bisogna per forza venire in teatro secondo me sì io non me la perderei questa occasione di capire mimmo che cosa gli succede a me muccio perfetto e anche a e anche a michele devo dire due personaggi veramente notevole michele infatti ma lui fa michele sì lui è michele io sono mimmo ok ma zinga chi lo fa ma zinga chi lo fa ma zinga è un personaggio che in realtà non non si vedrà non si vedrà mai si sente e nell'aria ma zinga è chiaramente quello che è il cattivone il nostro il nostro datore di lavoro non che poi diventa anche il nostro nemico ma zinga ma zinga è un personaggio che appunto che pensa soltanto ai soldi ed è il nostro antagonista però non lo vediamo mai lo sentiamo sempre ecco poi ti lascio andare ma come mai muccio a certo punto decide che non dopo tanti anni no di mano a valenza decide che non è la sua vita perché in realtà non lo decide bimbo e michele che è la mente che decide un po più di cambiare le cose perché alla fine loro hanno hanno insomma un dialogo in cui praticamente parlano della pensione di sconti nimi 50 anni ma cioè vogliamo pensare alla pensione saranno destinati ma diventa essere dei pensionati senza neanche percepire la pensione avendo mosso invece una quantità di danaro che hanno spazio compravendi impressionante quindi questo non lo sconto che dicevo ma non avevo bisogno di analire del pensione e quindi basta cambiamo le cose va beh io ti ringrazio ci vediamo in teatro grazie mille grazie mille venite mi raccomando un grande abbraccio ciao grazie ciao